I dati della pandemia inseriti nel consueto report del venerdì mattina elaborato dal Ministero della Salute in Basilicata incidenza dei casi settimanali finalmente sotto la media negli ospedali migliora la situazione ma resta alto il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari. I tre progetti di Stellantis per abbattere i costi energetici a Melfi per la Wilmu un'opportunità unica anche per abbattere la bolletta del 25% ma la Cisla avverte senza investimenti pubblici sulla rete di ricarica si rischia di rallentare la transizione verso l'elettrico. E procedono spedite le audizioni al Conservatorio di Potenza per la costituzione dell'orchestra sinfonica 131 della Basilicata. Le prove andranno avanti fino a lunedì, notevole riscontro anche dalle vicine regioni. Una pinacoteca a cielo aperto che si snoda per le vie del paese racconta attraverso opere d'arte e una narrazione audio la storia di ruoti. Il progetto inaugurato ieri pomeriggio nel centro del Potentino sta riscuotendo già un buon successo. Il calcio a 5 dopo 13 anni il presidente del CMB Matera Rocco Auletta fa un passo indietro di missioni irrevocabili da parte del numero 1 Biancazzurro. L'ondata di caldo sulla nostra regione, vedremo le prospettive per il weekend con l'esperto meteo Gaetano Brintisi nei nostri studi. Ancora un buon venerdì 3 giugno a tutti voi, ben ritrovati in studio per l'appuntamento con l'informazione della nuova Tg. In apertura i dati della pandemia inseriti nel consueto report del venerdì mattina elaborato dal Ministero della Salute. È in Basilicata incidenza dei casi settimanali, finalmente che scende sotto la media. Negli ospedali migliora la situazione, ma resta alto il tasso di ospedalizzazione nei reparti ordinari, come ci spiega Michelangelo Russo. La Basilicata sembra essersi messa finalmente alle spalle la fase epidemica più difficile, caratterizzata dalla predominanza della variante Omicron. I dati settimanali elaborati dalla cabina di regia del Ministero della Salute indicano una nuova flessione dei contagi rispetto ai sette giorni precedenti, ma soprattutto un'incidenza ogni 100.000 abitanti nel periodo preso in riferimento, quello che va tra il 27 maggio e il 2 giugno, inferiore sia pure di poco rispetto alla media nazionale. Un piccolo segnale che consolida la discesa dei contagi anche in Basilicata. L'incidenza è infatti passata da 276 a 204 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. In Italia le differenze sono più contenute, con 207 contagi rispetto ai 261 della precedente rilevazione. Negli ospedali invece è bene lo zero associato al tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre resta ancora alto quello nei reparti ordinari, al 13,6%, il più alto dopo Calabria, Sicilia e Umbria. Altrove, in media, ospedali molto più vuoti, con un tasso in calo al 7%. Gli ultimi dati inseriti nel bollettino, in attesa del consueto aggiornamento pomeridiano, dimostrano il calo dei ricoveri, 54 persone con 36 pazienti a San Carlo e 18 al Madonna delle Grazie, dopo il decesso di una 89enne. Tasso di positività sotto il 20%, con appena 132 casi rilevati, mentre prosegue il riconteggio sulle guarigioni, quasi un migliaio le ultime, comprese le più recenti 234 accertate, 18.984 gli attualmente positivi. Ancora i temi legati alla sanità in primo piano, con la direzione dell'Asp in visita a Lauria per confrontarsi con l'amministrazione comunale e il personale del distretto della salute. Puntualizzate al Digisto Pazzolo alcune azioni fondamentali per l'implementazione delle funzioni del Presidio ospedaliero dell'assistenza territoriale e della telemedicina. La proposta di realizzazione di un centro di coordinamento e accoglienza a profughi nel locale distretto è in fase di valutazione presso il Dipartimento regionale. A breve sarà poi riattivato il servizio di odontoiatria speciale per i disabili. Il sindaco Pitella ha ribadito l'urgenza che i ventilatori prestati a San Carlo per fronteggiare l'emergenza Covid rientrino nel distretto in modo da attivare le degenze per pazienti in stato vegetativo o che necessitano di ventilazione meccanica. Intanto nel Presidio ospedaliero di Policoro, Papa Giovanni Paolo II, è stata ripristinata l'attività di oculistica sia per quanto attiene la diagnostica strumentale sia per quanto riguarda il ripristino degli interventi chirurgici. Il dottor Massimo Cavallo, assistito dal dottor Rosario Orlando, oculista che opera presso il Presidio insieme alla dottoressa Rosanna Valente, ha effettuato mercoledì scorso il primo intervento di cataratta. Lo rende noto il dottor Francesco Riccardi, dirigente responsabile della direzione dell'ospedale Ionico. Voltiamo argomento ai tre progetti di Stellantis per abbattere i costi energetici a Melfi. Per la Wilma un'opportunità unica anche per tagliare la bolletta del 25%, ma la CISL avverte senza investimenti pubblici sulla rete di ricarica si rischia di rallentare la transizione verso l'elettrico. Come ci racconta Celestino Benedetto. L'attività di produzione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche è il via al processo di transizione, ma anche l'installazione di pannelli fotovoltaici sull'intero stabilimento dalla potenza complessiva di 28 mega, abbassando così la bolletta del 25%. Il progetto annunciato da Stellantis per Melfi va nella direzione indicata da tempo da Wilm e Wil, di ridurre i costi energetici e di rendere competitiva la più grande fabbrica lucana e una delle maggiori e più rilevanti dell'automotive in Italia. Ne sono convinti i segretari regionali di Wilm Marco Lomio e Wil Vincenzo Tortorelli. Sono questi temi che, affermano, contiamo di affrontare il prossimo 8 giugno in occasione della prima riunione del tavolo permanente con Regione, Sindacati e Confindustria, convocata dall'assessore Galella per programmare tutto quello che occorre per la produzione dei quattro nuovi modelli di auto elettriche a Melfi. Per affrontare la questione in modo definitivo per Lomio e Tortorelli, si tratta di entrare tra i progetti di finanziamento dei centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde. Per l'area industriale di Melfi è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. E di importanza degli investimenti pubblici parla invece la FIM CISL. Per vincere la scommessa delle auto elettriche è necessario che gli investimenti tecnologici di Stellantis sullo stabilimento di Melfi, spiega Gerardo Evangelista, siano affiancati da adeguate politiche pubbliche per rendere capillare la rete delle colonnine di ricarica. E su questo ci aspettiamo un ruolo attivo anche dalla regione Basilicata. Ora la cronaca giudiziaria perché diventa definitiva la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Angelo Di Muro e Nicola Lovisco, accusati di essere stati rispettivamente il mandante e l'organizzatore dell'omicidio di Marco Ugo Cassotta, ucciso il 14 luglio del 2007 a Melfi dal reo confesso Alessandro D'Amato nell'ambito della sanguinosa faida del vulture melfese. Si chiude così un lunghissimo iter giudiziario iniziato nel 2012 con la sentenza di primo grado e con un doppio ritorno in appello del processo dopo l'annullamento delle condanne da parte della Cassazione che si era concluso con la conferma delle precedenti sentenze. Le difese hanno annunciato un terzo ricorso in Cassazione. Come autore del delitto ha stato già condannato Alessandro D'Amato, oggi collaboratore di giustizia, autoaccusatosi dell'omicidio con il quale a suo dire avrebbe suggellato il suo passaggio dal cancassotta a quello di Muro degli Gatti. E con questo ci separiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. A fra poco. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di capannoni struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopra luoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806. Riprendiamo ancora con la cronaca. Ancora un incendio di un autobus, per fortuna senza conseguenze, lo riferisce la Will Transporti in una nota del segretario regionale Cefola. Questa volta l'episodio ha coinvolto un bus delle autoline Moretti, che vedete in questa fotografia. Era per fortuna vuoto di passeggeri e stava rientrando da Rapolla, a scapolinea di Rio Nero. L'autista è rimasto illeso grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito, mentre il mezzo viaggiava lungo la stradale 93. La Will Transporti rilancia così la sollecitazione ad accelerare il programma di ricambio del parco bus regionale per il TPL. Sono già numerosi i casi di incendio e di qui l'esigenza di ammodernare un parco mezzi ormai vetusto. E voltiamo decisamente pagina. Procedono spedite le audizioni al Conservatorio di Potenza per la Costituzione dell'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata. Le prove andranno avanti fino a lunedì prossimo. Notevoli riscontro anche dalle vicine regioni. Noi siamo andati a vedere come stanno procedendo le selezioni con Donato Carbonella. Sono giornate intense di audizioni all'auditorium Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza. Un risultato che ha sorpreso anche i vertici dell'Istituenda Orchestra Sinfonica 131 di Basilicata a conferma della straordinaria forza della musica che vede partecipare oltre 300 musicisti impegnati nelle prove previste dal 30 maggio al 6 giugno. Il numero dei partecipanti è veramente elevato. Ma quello che più mi coinvolge in questo progetto, dopo tanti anni di aver svolto questo lavoro, è che molti giovani candidati provengono non solo dalla Basilicata, ma anche da tutta Italia e da tutta Europa. Questi vengono a cimentarsi in un'audizione per una nuova orchestra, non sapendo l'attività ancora lavorativa, però vengono perché hanno sposato questo progetto. Un progetto ambizioso che sin qui ha ricevuto domande di audizione da 30 clarinetti, 40 flauti, 15 oboi e altrettanti fagotti, contrabbassi e corni, ma anche 20 trombe, tromboni e percussioni, 10 bassotuba, 8 arpe, 50 violini, 20 viole e 25 violoncelli. Come tutte le audizioni, come tutti i musicisti sanno, è sempre un momento intenso e impegnativo dove lo studio e il percorso personale viene esposto ai massimi livelli, quindi sono contenta. Poi anche l'auditorium in cui ho suonato una bellissima acustica. Una realtà molto importante, soprattutto per noi giovani, in quanto possiamo affacciarci comunque al mondo dell'orchestra, studio al Conservatorio di Vibo Valencia e spero sia andata bene, oggi ho fatto l'audizione. Spero di essere idoneo almeno e niente, è comunque una bella esperienza venire qua e fare l'audizione. Tra i componenti della commissione e soci fondatori, anche il maestro Pasquale Menchise, Giovanna D'Amato, Francesco Zingariello, Pietro Borgonovo, Roberto Durbano, Igor Cagliazza, Gabriele Pierannunzi, Roberto Trainini e Fabrizio Falasca per le varie sezioni di strumenti. Alta sin qui la qualità delle esibizioni. Vista la qualità non solo dei musicisti lucani, ma anche quelli provenienti da altre regioni o dall'Europa, noi oggi, caro maestro, saremmo in grado di costituire un'orchestra di strumenti a fiato. Sono certo che alla fine consentirà non solo al sottoscritto in qualità di direttore artistico, ma anche a tutti i dirigenti dell'orchestra regionale della Basilicata di costituire un'orchestra di assoluto livello. La Regione finanzierà il progetto della ciclovia Giuliana nella città di Matera con 950 mila euro da fondi europei del POFESR Basilicata 2014-20, come stabilito nel Comitato di coordinamento e monitoraggio dello scorso 26 maggio, presieduto dall'assessore alle infrastrutture Donatella Merra insieme all'autorità di gestione del POFESR. L'intento è quello di creare, ha spiegato l'assessore, un'infrastruttura che percorra alcuni dei luoghi più suggestivi, come il lago di San Giuliano, sito dell'oasi faunistica del WWF, dove è stato ritrovato il più grande cetaceo del Pleistocene e la cripta del peccato originale, sito rupestre Ipogeo. A breve ha concluso l'assessore, la scheda progettuale della ciclovia Giuliana sarà sottoposta al vaglio all'approvazione della giunta regionale per portare a termine questo intervento entro la fine del 2023. Una pinacoteca a cielo aperto che si snoda per le vie del paese racconta attraverso opere d'arte e una narrazione audio la storia di Ruoti. Il progetto inaugurato ieri nel centro del Potentino sta riscuotendo già un buon successo, come ci raccolta Mariolina Notargiacomo. Un borgo dove i muri parlano e narrano dei personaggi che ne hanno fatta la storia del paese, di chi ha avuto successo e anche di chi continua a vivere nell'immaginario della gente, grazie al racconto dei nonni. Narrazioni a cui si giunge dopo aver ammirato le opere d'arte che ne ritraggono i tratti salienti, perché a Ruoti si vuole restare ancorate al passato e per non disperderlo, l'amministrazione comunale ha dato vita ad un museo a cielo aperto. Si chiama Ruoti Graphic Novel, visioni della memoria, e sta riscuotendo già un buon successo. Il percorso che si articola in dieci tappe è animato da grandi pannelli realizzati dall'artista lucano, Silvio Giordano, i cui bozzetti sono stati trasformati in sculture digitali 3D dalla società F9. Sotto gli occhi dei visitatori prendono corpo le visioni della memoria richiamata dai versi di Rosario Angelo Avigliano. Siccome si parla tantissimo di ripopolamento dei piccoli borghi, bisogna cercare di trovare il compromesso giusto per non utilizzare troppa tecnologia, quindi troppe app che possono risultare solo virtuali, e noi abbiamo cercato di unire sia la tecnologia sia le opere d'arte contemporanea, quindi arte pubblica, come puoi vedere queste stampe grandissime di 3 metri, che rappresentano i personaggi storici di ruoti, alcuni non esistono più, e noi abbiamo cercato di tirarne fuori le parti più interessanti, con dei ritratti, ritratti digitali, che sono stati ricostruiti in 3D dalla società F9, con dei testi scritti da Rosario Angelo Avigliano, e la cosa interessante è che tu scarichi l'app, puoi sentire questa narrazione, e allo stesso tempo puoi vedere delle opere d'arte. Sostenuta in audio dalla narrazione di Rota, una presenza femminile eterea, una ninfa abitante delle acque sorgive dell'antico santuario di Fontana Bona, l'illustrazione suggerisce spunti, aneddoti e promette grandi emozioni. Il affare da cappello e da introduzione è Rota, un personaggio legato a Fontana Bona, una fontana che sta qui nel paese, che diventa il fil rouge di tutto il percorso, e racconta della vita dei personaggi. Così si incontra lungo il percorso una donna che ha portato dei semi di peperoni in America, quindi oltreceano, ha fondato una struttura, ha venduto, e il Jimmy Nardello Spepper è diventato famosissimo in America, oppure si può vedere sulle pareti di un uomo che ha fondato il tempo, Renato Angiolillo, che è un precursore alla fine, un precursore dei quotidiani, e che un grande uomo che ha raccontato della Basilicata, perché nel tempo c'era un inserto dedicato alle cronache lucane. Il progetto è stato finanziato con fondi POFESL 2014-2020. Ed è Sasso di Castalda, la località scelta dalla Fai Cisle di Basilicata, per la quarta edizione della manifestazione ecologista Fai Bella l'Italia, in programma domenica 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. I volontari lucani della Fai Cisle, con ritrovo alle 9.30 nei pressi del municipio, si occuperanno della pulizia del percorso naturalistico dei ponti tibetani di Sasso di Castalda sulle sponde del Fosso Arenazzo, un luogo dalle forti suggestioni metà di numerosi appassionati e turisti che prediligono una vacanza en plein air. Previste inoltre la messa a dimora di quattro alberi, due tigli, un frassino e un acero, tutte essenze tipiche del territorio, per contribuire concretamente alla riduzione di CO2. La giornata è organizzata in collaborazione con il comune di Sasso di Castalda. E passiamo al calcio. Il campionato 2022-2023 di Serie C partirà il prossimo 28 agosto, ad annunciarlo il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in un'intervista dove ha ufficializzato la data relativa all'inizio della prossima stagione, che tra le Lucane vedrà impegnate Potenza e Picerno e Nastri di partenza. Lo stesso Ghirelli ha affermato che il campionato di Serie C non si fermerà a novembre-dicembre, quando in Qatar si giocheranno i mondiali. Rinviata per ora la riforma dei campionati, che rimarranno con questo format, dopo che nelle passate stagioni erano state paventate modifiche di vario genere. E passiamo invece al calcio a cinque di Serie A. Dopo 13 anni il presidente del CMB Matera, Rocco Auletta, fa un passo indietro. Dimissioni irrevocabili da parte del numero uno, Bianco Azzurro. Ma ci spiega di più Donato Valvano. Dopo 13 anni il presidente del CMB Matera, Rocco Auletta, ha detto basta ed ha rassegnato le irrevocabili dimissioni dal club Bianco Azzurro. Alla base della sofferta ma drastica decisione, uno stato di logorio mentale e fisico dell'ex numero uno del CMB, che durante tutti questi anni ha visto quella che era una sua passione, trasformarsi gradualmente in un impegno ed un lavoro a tutti gli effetti, che lo hanno portato a trascurare gli effetti e la famiglia. Tra le altre motivazioni del suo passo indietro, anche l'annoso problema legato alle strutture. In questi anni, infatti, il CMB ha vissuto un vero e proprio girovagare tra i palazzetti di Grassano, Salandra, Matera ed in ultimo Policoro, che, secondo Auletta, hanno disorientato anche la tifoseria, facendo perdere quel sentimento di appartenenza ad un territorio che era stato il detonatore del progetto iniziale, oltre a costringerlo, per sua stessa missione, a trascorrere tutte le stati nei pubblici uffici, alla ricerca di un campo idoneo dove poter disputare un campionato di Serie A. Alle difficoltà logistiche si sono aggiunte anche quelle di tipo economico, il taglio delle risorse e dei sostegni da parte della regione basilicata, la difficoltà di reperire sponsorizzazioni locali e la riforma del campionato da parte della divisione Calcio A5, con conseguente lievitazione dei costi, hanno reso, secondo Auletta, insostenibile un campionato di Serie A. Si tratta, insomma, di un passo indietro che mette un punto interrogativo sul futuro del CMB. Fino alla notizia di poche ore fa sono state assegnate le bandiere verdi 2022, quelle che indicano le spiagge a misura di bambino, sono 145 quelle sparse lungo le coste italiane. Per la Basilicata sventolano anche per quest'estate le bandiere verdi a Pisticci, che vede assegnato questo riconoscimento ormai da lontano 2010, e per Maratea che per la prima volta lo ha ricevuto proprio dieci anni fa. Da segnalare anche la conferma di Praia a Mare, località dell'Alto Tirreno-Cosentino, molto gettonata per le vacanze delle famiglie lucane. E con questo chiudiamo qui questa edizione della nuova TG, ma non andate via perché subito dopo di noi arriva l'esperto meteo Gaetano Brindisi, qui nei nostri studi. Buona visione. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, anticiclone disturbato da infiltrazioni di aria umida da ovest-sud-ovest nel corso di venerdì, che interesserà le nostre regioni centrosettentrionali. Andiamo a vedere con che effetti, di fatti ritroveremo delle nubi medio-alte in transito al centro-nord, più compatte sulle regioni settentrionali. La prossima immagine ci fa vedere come nella seconda parte del giorno sarà un fiorire di rovesci temporali su Alpi e Prealpi, localmente anche intensi. Ma questa nubolosità regolare durante la giornata produrrà qualche goccia di pioggia anche sulla Val Padana, centro-occidentale. In sintesi quindi l'immagine dell'Italia con le nubi medio-alte in transito al centro-nord, più compatte al nord-ovest con qualche goccia di pioggia e poi durante il pomeriggio rovesci temporali anche intensi sull'arco alpino. Sole al sud, giornate di bel tempo ma di caldo intenso. Dettagli maggiori, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.